Hanno approfittato della più indifesa per dilapidare i suoi risparmi allo scopo di acquistare la sede della RSA San Vincenzo ad Alano di Piave. I due novelli Bonnie e Clyde sono una coppia trevigiana, 29 anni lui, 26 lei, rispettivamente presidente e amministratrice della struttura per anziani, denunciati al termine dell'operazione congiunta condotta da Guardia di Finanza e Carabinieri di Belluno. L'indagine parte da alcune segnalazioni di operazioni sospette che abbiamo sviluppato anche grazie a nuove tecniche sviluppate dal nostro comando regionale. Questo ci ha promesso di partire subito già a fine dicembre e grazie alla collaborazione con i colleghi dell'arma e all'autorità giudiziaria in tempi brevi siamo giunti a un sequestro. L'anziana ha presa di mira una settantenne invalida al 100% dal 2004 affetta da problemi psichici. La coppia, aducendo come scusa l'intenzione di pagarle la retta finché ve ne fosse stata necessità, è riuscita a farle smobilizzare 520 mila euro investiti in titoli e a ottenere il denaro attraverso una donazione modale. L'operazione si è svolta davanti a un notaio bellunese a cui è stato prodotto un certificato medico che pare non rispondesse allo stato di salute effettivo della donna. A indagine veloce grazie alla segnalazione di un istituto di credito è seguita l'immediata azione dell'autorità giudiziaria che ha richiesto il sequestro preventivo della RSA. Presidente e amministratrice sono indagati a piede libero per circonvenzione di incapace in debito utilizzo di carte di credito e di autoriciclaggio. I nostri anziani, io li chiamo nostri perché dobbiamo considerarli tali, devono essere tutelati in tutti i sensi. Già stanno combattendo contro un nemico cattivo il coronavirus ma fortunatamente per il coronavirus il vaccino c'è contro la disonestà, il vaccino purtroppo non è ancora stato inventato. Anni Sereni è stata denominata l'operazione dell'arme delle fiamme gialle perché a questo hanno diritto gli anziani. Per gli ospiti della San Vincenzo le abitudini quotidiane fortunatamente non subiranno cambiamenti sul fronte giudiziario. Il fascicolo relativo all'indagine è stato trasferito per competenza alla procura di Treviso.